no salve a tutti ragazzi ciao a questo essenzialmente questa cosa benvenuti nel primo episodio di slenderman varietà slenderman ovvero slenderman non c'entra un cazzo con tutti questi video giochi però sono ispirati a lui no quasi no dettaglio cioè vogliamo con l'episodio del primo video di questo canale abbiamo pensato di fare la storia di slender mentre in questo tipo di giochi fasuli di slender ok giusto anche oggi faremo ad estrazione sceglieremo chi anche per questa volta ci farà l'estrazione ma sempre subito modo della ciotola con i foglietti aspetta tacculo i bigliettini ok però oggi giuseppe non porrà essere estratto dato che ha già giocato l'ultima volta date page facendo il risultato di tre pagine su otto non male vabbè comunque capita quando tu perdi la pazienza con certe ragazzine che non corrono perché voi questa volta vedete fortuna perché il gioco in cui faremo incominciaremo in questa serie si che è slender tabby il famoso slender tabby ok non so che caso ma guarda che coincidenza ahah ma guardatevo voto decisivo voto decisivo non va bene scuro per la seconda volta con tutti i soliti wasd wasd vai con questo vai avanti bravo si so quello corriso ahahah 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 vedo alberi verdi hai capito alberi verdi a casa mia che cazzo te io va sotto sotto dove sotto l'albero dai che sotto viene aiuto l'hai superato l'hai superato no c'è stato l'hai superato l'hai superato oh ma vedeci vede non c'è stato ma vaja AAAAAA AAAAAH AAAAAA AAAAAAAHA AAAAAAAAAA vaff такую o volardo non tirate AA ma basta basta vai l'incontro fuoco vai l'incontro no voglio continuare sono zittato dai leone che gioco io ho capito abbassa la sua faccia non è una bella cambia di gioco ho dato abbastanza già ha dato fuoco al computer con tutto ma vedi che sei un pezzo di niente la vera qualca droga vabbè che l'hanno fatto che stronzo io ancora non ho capito che cosa bisogna trovare nooo delle fusi dei teletubbies una specie di pappetta le loro uova da quando i teletubbies fanno le uova una specie di dor rosa ah vabbè cacca sono peggio sono merda ma qua c'è stato ma c'è stato mi spiegate voi da dove e e ma manca da avere tisci ma ti dei sensori fa culo uno sui e stare attento perchè c'è d'inchi buchini dietro ecco lì ma ciao ah andato per via acqua lui fa niente aspetta non stiamo ma capito mi spiegate voi da dove capite che là ci sta qualcosa non ne ha la più pallidata fratello pericola guardia fa sta mappa che so che ne so che dammi n'idea vaga vaga mamma mia vabbè c'è l'esercizio in palestra sta tutto il tempo così paura ah che si perchè perchè te mi fai via colpi perchè ma non è vero vero raga mi so perso dmw tiki 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 ma io sono andato davanti non vedo niente ma cazzo e pure tu come fa il sole no no oh no che tortuo sai hai trovato il dico ma qual è papà? è tipo un brodino è l'albero cresciuto male si però tu non ti andai a boccarsi oh a me la motora della strada mi mancano soltanto ed è finita la strada qua grazie ringraziatemi che senza di me voi a quest'ora avreste finito il gioco grazie Leonardo posso dare bene finalmente l'incubo Giuseppe è finito per ora adesso ne restano artiotti ma io mi chiedo non gli potevi andare addosso quando non avevi le occasioni come ti dicevo io scusateci ma Giuseppe è un deficiente eccolo è il nostro amichetto il necrone dei necroni il necron dei necroni ma sai che brutto che schifo d'altro dai segui me la via olle numero 3 sono arrivato eccolo quello dentro la caverna ora adesso mi devo spiegare a girarmi non mi incula vivo perfetto non ci sta salvo guardate lo ritrovi davanti semplicemente me la stai tirando? si così finisce sto gioco ma quando si può girare ma quando si può girare vabbè c'è cazzo non deve mangiare dove dove stai? a visto dove stavo no non c'era stava quando è un appiccicato ok e veicolo cos'occo questo aumenta le velocità se capito che culo e la pappetta non c'erano non c'erano 4 pappette schiena pappetta più pappetta meno no vabbè taci io io morsi guarda che testa arrivato mentre apposta immagini lassopra sono due anche a fare così io non capisco stavano andando avanti niente vabbè adesso vabbè basta vabbè 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 noi che erano t'havamo scocciato eh si fatti eh vabbè ragazzi quinta pappetta del calcolo su 10 vabbè vediamo fatto ce resta quella che è quello che sto cercando ma che culo è guarda cosa ce l'hai dietro eccolo eccolo cosa dovrebbe fare non è è proprio rotto il fumo no cosa dovrebbe fare il microfono cosato cosato non adesso invece si 7 su 10 ma che altro è possibile ah porca staccio che sto madonna mia mamma mia accendermelo io corri corri ma accendi quel motorino madre eh si ma io devo andare dall'altra parte eh si ma ce l'hai dietro girati girati così ti scattano vai piano piano apposta piano piano quanto stavo se è in pazza se è un disegno abbiamo visto l'interno c'è sua attraverso mamma ho mamma dai schifo quando non cerchi c'è lì quando lo cerchi ahhh 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 c'è una casa fa Oh, io mi regiro Che cazzo va a dire Il giocatore è stato preso Il video finisce qua Abbiamo avuto un bel po' di infarti Molto più di un po' Sì La porta come al solito si apre Quindi di sicuro Slender ci sta venendo a vendicarsi Non ce la ti dare Mi cattano delle palle Le tue pure E bella a tutti Ci vediamo al prossimo video E ricordate che l'albero qui dietro E' in vendita su ebay a 0 Perché lui non fa il venditore porta a porta O sulle televendite Perché i miei non hanno mai voluto E quindi Dagli nominali a questo è tutto Ciao ciao Grazie a tutti